Dopo un accurato e attento restauro, l'opera Miracolo di Marino Marini è tornata a far bella mostra di sé nell'atrio del Palazzo Comunale in piazza Duomo a Pistoia, da dove era stata prelevata il 20 ottobre scorso per essere restaurata. La statua equestre è tornata nella sua collocazione originaria stamani, dunque prima delle festività natalizie, come annunciato in occasione della partenza dell'opera per il restauro. Sì, come avevamo detto, così è stato, è un dono di Natale alla città, è un'anteprima della grande mostra Marino Passioni Visive ed è soprattutto il miglior viatico in questo palazzo, nella città, con l'opera più significativa del nostro più importante artista per la capitale italiana della cultura. Siamo davvero lieti di poter ospitare di nuovo questo miracolo e vogliamo ringraziare il Rotary, la fondazione Marino Marini che hanno generosamente concorso al restauro di un'opera così importante, così capace di rappresentare simbolicamente la ricerca anche drammatica, umana e artistica di uno straordinario nostro concittadino. Davvero, questa è stata veramente un'operazione importante, questa scultura, che è una delle più grandi di Marino, a cui teneva molto e che aveva donato alla città nel 1975. Io sono molto lieta di questa operazione e devo ringraziare i Rotary, Pistoia Montecatini Terme perché veramente l'opera era pericolante, c'erano dei grossi problemi di stabilità e finalmente è stata ristrutturata e restaurata in sicurezza.